Siamo in diretta qua su RTL 125, buon pomeriggio, abbiamo l'onore, il privilegio, anzi ho l'onore, il privilegio e il piacere di avere qui in onda con noi, con me, Storm Queen. Ciao Storm, how are you? Bene, io sono contentissimo di averti qua, ho insistito perché tu potresti venire in onda con noi, io ti seguo, ho tutti i tuoi dischi, ma una cosa che io vorrei sapere da te, perché comunque un po' il problema del momento, come risolvere questa questione appunto, la fame nel mondo, Storm? È interessante quello che dice, è molto interessante e credo che debba essere da esempio per tutti quelli che la pensano come te, per quelli anche che non la pensano come te. Il singolo è forte, è una bomba, i tuoi dischi sono delle bombe, sono fortissimi, ma speriamo una cosa, Queen, c'è qualcosa che bolle in pentola in futuro? Ma non credi di averci anticipato troppo? Io credo che questa sia la decisione migliore, credo che saranno d'accordo anche i tuoi discografici, sono contento e sono felice che tu ce la vedessi anche prima a noi di RTL 125 Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, naturalmente le nostre porte sono sempre aperte, quando vorrai venire noi ti accoglieremo sempre, abbraccio aperto Ciao Storm, ciao Queen